Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Droga a Fossombrone, nel fine settimana un arresto, una denuncia e 10 segnalazioni alle prefetture Epidemia di varicella, centinaia, i casi manifestati dall'inizio dell'anno L'Alma Juventus Fanno pareggia col Mattelica e chiude il campionato al secondo posto in classifica Adesso è sfida playoff Buonasera, benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia Apriamo con la cronaca, con la notizia che avete sentito nei titoli di apertura I carabinieri di Fanno hanno arrestato un uomo, denunciato un 31enne e segnalato 10 giovani Tutti quanti trovati in possesso di stupefacenti Sentiamo il servizio di Simona Zonghetti Erano venuti a conoscenza di una festa con musica elettronica che avrebbe portato a Montalto centinaia di giovani da tutta la penisola Così i militari della compagnia Carabinieri di Fanno hanno deciso di eseguire un servizio straordinario di controllo alle uscite della strada statale 73 bis Presenti i carabinieri delle stazioni di Fossombrone, Saltara, Pergola, Mondavio, Cagli Inoltre il personale in borghese del nucleo operativo di Fanno e due unità cinofile antidroga di Pesaro A finire in manette è stato un quarantenne di Viterbo trovato con 103 g di hashish Il giudice per le indagini preliminari di Urbino ne ha convalidato l'arresto Il legale dell'uomo ha chiesto i termini a difese e il quarantenne è stato rilasciato Nel corso della stessa operazione i militari hanno anche denunciato un padovano di 31 anni sorpreso con 22 g di hashish e alcune dosi di cocaina Inoltre sono state segnalate alle prefetture per possesso di sostanze stupefacenti destinate a uso personale altre 10 persone provenienti da diverse regioni dell'Italia centrale e settentrionale tra questi anche un minorenne E si svolgeranno nella chiesa di San Giuseppe a Marotta i funerali di Lamberto Finocchi anche se non è stato ancora definito il giorno Il pensionato, 72 anni, travolto e ucciso nel tarto pomeriggio di sabato mentre attraversava la strada lungo la via cesanense nella frazione di Ponterio del comune di Monteporcio Al termine dell'esequio la salma sarà deposta nel cimitero di Mondolfo accanto ai suoi cari Ed ora cambiamo argomento, parliamo di salute Possiamo sicuramente definirla un'epidemia perché sono centinaia i casi di varicella nel nostro territorio Sentiamo È una malattia per la quale non esiste ancora l'obbligo del vaccino ed è tuttora una delle infezioni più comuni che colpisce adulti e bambini La varicella si manifesta attraverso la classica comparsa di numerose chiazze rosse e rilievo, dette papule, che evolvono rapidamente in vescicole distribuite un po' su tutto il corpo in particolare nel volto, nel cuoio capelluto, nel torace e nel dorso e non appaiono tutte insieme ma piccole ondate distanziate di qualche giorno l'una dall'altra Questa manifestazione è preceduta da un periodo di incubazione di 14 giorni mentre rimane contagiosa nei due o tre giorni prima che si esterni e nei cinque successivi cioè fino a quando tutte le lesioni vengono ricoperte da una crosticina Il picco di incidenza invece si verifica nel tardo inverno e all'inizio della primavera così come è accaduto anche nella scuola materna statale di Cucurano di Fano Sì, abbiamo avuto dei casi, soprattutto nel mese di gennaio e il mese di febbraio forse un numero più elevato rispetto agli altri anni ma per noi che operiamo nella scuola dell'infanzia oramai è un periodo quasi naturale avere un calo di assenze sia per l'influenza sia quest'anno anche per la varicella In questa scuola dell'infanzia inoltre non ci sono state particolari fasce di età maggiormente colpite Noi qua siamo tre sezioni e sono state colpite in linea di massima quasi tutte e tre le sezioni e tutte e tre le fasce di età dai tre ai sei anni A parlarcene nei dettagli invece un pediatra di famiglia dell'area Vasta 1 nonché componente della segreteria provinciale della Federazione Italiana Medici Pediatri Roberto Budassi È in corso effettivamente un'epidemia, un'epidemia importante non è un'epidemia devastante però è un'epidemia che ha i suoi numeri Io un anno fa, un paio d'anni fa, avevo fatto una piccola indagine sui miei casi In dieci anni avevo visto qualcosa come 670 casi quindi diciamo una media di circa una sessantina all'anno Adesso per avere una proporzione gli ultimi tre mesi sono stati 40 casi quindi effettivamente l'epidemia c'è Tutte le classi dei bambini più piccoli, se entra il virus ovviamente il virus è estremamente contagioso quindi si trasmette e in breve tempo, nel giro di qualche settimana al massimo qualche mese, li batte quasi tutti E nel caso in cui dovesse essere contratta da un adulto o da una donna in gravidanza? Questo è il grande problema Fra gli adulti noi potremmo trovare più facilmente delle persone che si trovano in una situazione di rischio per la varicella pensiamo a tutti quelli che sono immunocompromessi che fa terapie contro malattie tumorali e una categoria molto particolare è appunto quella delle donne in stato di gravidanza specialmente se hanno dei figli suscettibili La varicella può essere pericolosa per il feto ha proseguito il dottor Budassi in particolare quando viene contratta dalla madre nei primi mesi di gravidanza oppure nei giorni antecedenti o successivi al parto La prevenzione è fondamentale perché la varicella non ha una vera terapia come tutte le malattie virali esistono dei farmaci antivirali ma su questi noi non possiamo fare, porre tutte le nostre speranze le speranze maggiori sono quelle della vaccinazione vanno protetti e vaccinati tutte le persone, prioritariamente tutte le persone che possono essere a rischio e successivamente tutta la popolazione generale partendo dai bambini in avanti A tal proposito è appena uscito un nuovo calendario vaccinale proprio un mese fa o anche meno da parte della regione Marche che pone appunto l'accento soprattutto nelle donne in gravidanza soprattutto l'offerta attiva a livello dei bambini di un anno ai bambini che fanno le vaccinazioni dei 5-6 anni e di tutti gli adolescenti che sono dai 12 ai 14 anni ma anche fino ai 18 che hanno un'anamnesi negativa che non si ricordano di averla avuta e che non sono stati vaccinati Com'è la situazione invece a Villanova? Adesso al momento diciamo che si sta attenuando il fenomeno però fino a 20 giorni fa era da considerarsi credo una vera e propria epidemia tant'è che c'erano anche classi della scuola materna proprio decimate Meno casi invece sono stati registrati tra i piccoli alunni della scuola comunale dell'infanzia Alessandro Gallizzi Noi non abbiamo riscontrato una grossa percentuale di bambini che sono malati in questo periodo Secondo me negli ultimi anni c'è stato anche un'alta percentuale di bambini e di genitori che decidono di vaccinare i loro bambini contro le maggiori malattie infettive Il breve periodo che precede la comparsa dei sintomi può essere caratterizzato da febbre, perdita di appetito leggera tosse e malessere generale ma anche da un prurito più o meno intenso e fastidioso Per la varicella escluse e per le manifestazioni molto gravi o situazioni a rischio non c'è molto da fare se non lasciare sfogare completamente la malattia alleviando come si può quelli che sono i disturbi da essa provocati Quali sono i prodotti? I prodotti che possiamo usare sono delle pomate antivirali come può essere la ciclovir la ciclovir crema che è da mettere sulle vescicole ovviamente stando attento a non toccarle a non romperle perché poi i rischi che rimangono delle cicatrici in più ai bambini per togliergli un po' il prurito si possono dare delle gocce di antistaminico e appunto somministrate due o tre volte al giorno possono un pochettino togliere il fastidio al prurito e in più cercare di farli grattare il meno possibile quindi anche usare dei guantini di cotone perché i bambini poi tendono a grattarsi e questo poi gli potrebbe lasciare dei segni per sempre ed è tornata finalmente in campo al fianco delle sue amiche di squadra rosa la dodicene di calcinelli ricoverata dal 20 febbraio scorso ai primi di aprile all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona inizialmente con una sospetta meningite da meningococco alla quale è seguita la diagnosi di infiammazione al cervello dopo 43 giorni di calvario e un periodo di convalescenza anche se per pochi minuti la bomberina è tornata a giocare a calcetto al palazzetto dello sport di Cucurano tra applausi sorrisi di amici e familiari passaggio di consegne alla capitaneria di porto di Fano questa mattina il sindaco Massimo Seri ha incontrato il nuovo comandante Eliana Di Donato che prenderà il posto di Fabrizio Marilli per quest'ultimo si apre infatti una nuova esperienza lavorativa nella città di Venezia il primo cittadino nel ringraziare il tenente di Vascello Marilli per l'ottimo lavoro svolto nella nostra città ha salutato il nuovo comandante che per la prima volta dirigerà la capitaneria di Porto Fanese ed ora torniamo a parlare delle elezioni che si svolgeranno il 31 maggio prossimi Antonella Zaccarelli ha presentato il suo programma elettorale milita nella lista di Uniti per le Marche da 12 anni abito in questa frazione che ha 10 km da Pesero Colombarone appunto quindi volevo partire a mezza campagna diciamo così anche da questa zona per far capire ai miei concittadini che bisogna venire a votare assolutamente votare una candidata del posto in questo caso io la mia politica è quella di portare avanti le piccole e medie imprese di aiutare le aziende a non sovrattassarle di conseguenza questo potrebbe generare ovviamente posti di lavoro cosa che qui soprattutto nella zona di frontalismo diciamo così perché il limitro fa la Romagna non sta succedendo c'è questo a immigrazione di posti di lavoro che vanno verso un'altra regione bisogna assolutamente fermarla ed è uno dei punti cardini del mio programma Luca Ceriscioli il candidato presidente ha voluto essere qui per sottolineare l'importanza di donne che si impegnano in politica per avere una rappresentanza femminile sempre di più importante a livello regionale ho apprezzato moltissimo che Luca Ceriscioli sia venuto qui oggi e che mi abbia affiancato nella mia corsa alla candidatura bisogna quindi insistere sul candidato donna mettendo la preferenza della persona scelta ed è l'invito che adesso voglio rivolgere a tutti tenacemente di insistere e di scrivere Zaccarelli nella lista uniti per le marche l'amministrazione comunale di Pesaro investirà un milione e mezzo di euro nel centro storico risorse ottenute da una gestione virtuosa del bilancio e dall'unione dei comuni che consentirà di sbloccare fondi lo ha annunciato il sindaco Matteo Ricci e gli stati generali del centro nella sala della Repubblica del Teatro Rossini ed è stata una giornata memorabile per 300 ragazzini che hanno partecipato all'Eucrezia alle esercitazioni su come comportarsi in caso di emergenze vediamo il servizio 300 allunni della scuola primaria dell'istituto comprensivo Marco Polo di Cartoceto sono stati accompagnati nella visita di sette postazioni allestite nel parco pubblico a Lucrezia per assistere a diverse esercitazioni in caso di emergenze hanno osservato le manovre di rianimazione dei sanitari i mezzi dei vigili del fuoco ma anche l'abilità di un cane da salvataggio si tratta sostanzialmente di un'esercitazione che coinvolge tutti i ragazzi delle scuole primarie con diversi gruppi interessati nei diversi casi di rischio o di emergenza ci fa particolarmente piacere ospitare questo progetto perché trattasi di uno tra i 18 progetti nazionali e siamo come istituto comprensivo Marco Polo a Cartoceto uno dei 5 progetti a livello regionale ogni 15 minuti circa i ragazzi sono stati accompagnati da una postazione all'altra la mattinata poi si è conclusa con la simulazione del crollo di un muro causato dal distesto idrogeologico ad entrare in azione in questo caso sono stati i cinofili per la ricerca delle persone rimaste sotto le macerie abbiamo sette isole abbiamo delle isole che sono dal corpo forestale dello Stato al COC centro operativo comunale quindi rappresenta diciamo il tavolo in caso di emergenza dove si accolgono tutte le informazioni c'è la Croce Rossa ci sono i Vigili del Fuoco poi abbiamo il gruppo cinofili del CB Mattei di Fano poi abbiamo la CMA centro marchigiano antincendio di Mondavio e abbiamo i nostri colleghi che insieme al gruppo comunale di protezione civile di Caltoceto ci è anche rappresentato il gruppo comunale di protezione civile di Montemaggiore al Metauro e di Serungrina è un progetto questo che parte dal Dipartimento Nazionale di Roma e che la Regione Marchi ha recepito ormai da diversi anni con lo scopo di divulgare soprattutto fra i giovani i comportamenti da tenere in caso di calamità naturali si svolge durante tutto l'anno scolastico attraverso sistemi multimediali a livello teorico e alla fine di questo percorso viene organizzata questa giornata in contemporanea in tutte e cinque le province della Regione Marche per dimostrare a livello pratico quello che è proprio l'attività del Sistema Nazionale di Protezione Civile che è un sistema in Italia molto complesso ma che comunque ha sempre dato finora delle buone risposte alla popolazione Larga adesione di grandi e piccini alla quinta edizione di Riprendiamoci i passeggi l'iniziativa che si è svolta domenica 10 maggio è nata dall'idea di un gruppo di mamme vicine per lo più al Movimento 5 Stelle fanese e comunque sensibili ai temi ambientali impegnate nel ridare nuova vita a uno dei parchi pubblici più belli e centrali della città è stato un pomeriggio di festa quello di ieri dedicato innanzitutto ai bambini che sono stati coinvolti in diversi giochi come una caccia al tesoro e giochi di magia numerosi anche gli adulti che hanno partecipato offrendo un dolce una bibita alcuni hanno portato un pallone con cui hanno contribuito a creare un clima di spensieratezza spensieratezza e gioco naturalmente con il pallone allora l'associazione letteraria organizza il secondo appuntamento di un ciclo di incontri martedì 12 maggio sarà ospite alla Mediteca Montanari e l'autore Marcello Fois sentiamo la sua dichiarazione è il secondo di tre incontri con altrettanti grandi autori fuori concorso dico fuori concorso perché questi incontri si collocano nell'iniziativa letteraria in città che come l'anno scorso prevede di portare in Mediateca i romanzi che sono arrivati al concorso letteraria e quindi diventeranno dalla fine di maggio accessibili a tutti coloro che li vogliono leggere e quest'anno abbiamo pensato di aggiungere queste possibilità di incontrare appunto degli autori fuori concorso naturalmente ma tre importanti importantissimi autori domani sarà la volta di Marcello Fois e l'appuntamento è alla Memo alle 17.30 17.45 come ogni volta non dovrei fare preferenze ma devo dire che Marcello Fois è a mio avviso uno dei più grandi autori italiani di questo momento insomma una scrittura altissima un autore di numerosissimi romanzi splendidi sulla sua Sardegna e non solo anche il 20 di maggio ci sarà un altro incontro sì il 20 di maggio si chiuderà questa rassegna di incontri che si è aperta già il 28 aprile con Benedetta Tobagi e appunto si chiuderà il 20 con Laura Pariani e questa volta noi invece abbiamo pensato di coinvolgere gli studenti delle scuole superiori perché l'intento di letterari è quello di portare libri nelle scuole e quindi ognuno di questi autori dialogherà in realtà con giovani studenti che li hanno letti e devo dire li hanno letti con grande competenza pomeriggio di festa e con tante persone presenti alle finali e alle premiazioni del quinto torneo di volley misto per genitori delle scuole fanesi il torneo è stato vinto all'ultimo punto dalla scuola Montessori contro l'asilo Zizi di Santorso a premiare erano presenti il sindaco Seri Minardi e l'assessore del Bianco oltre alla dirigente scolastica Benni l'augurio unanime vista la bellezza dell'evento e che questo si possa continuare ed essere sempre più partecipato da tutte le scuole fanesi e rimaniamo nella pagina degli eventi però ci spostiamo a Fossombrone grande successo ieri per la quindicesima edizione del Trionfo del Carnevale quasi 20.000 persone hanno affollato il centro storico e le vie limitrofe di Fossombrone per i tre giorni di festa dedicati alla rievocazione storica rinascimentale le contrade si sono date battaglia nella giornata di sabato scorso con i giochi storici mentre domenica con la Cursa all'Anello vinta da Villa di San Martino e sempre San Martino si è giudicata il palio del Cardinale per la seconda volta consecutiva davanti al quartiere di San Giorgio e al castello di Isola di Fano nel tergiornale Occhio e la notizia di domani manderemo in onda il servizio dedicato a questa edizione del Trionfo del Carnevale Pagina sportiva dedicata al calcio come di consueto tutti i lunedì ultima giornata di campionato ieri ha visto pareggiare al Mancini l'Alma Juventus Fano con il Matelica per 2 a 2 i Granata torneranno in scena il 24 maggio contro la vincente dei due turni fra San Benentese Campobasso e San Nicolò vediamo gli highlights e la telecronaca di Sergio Catalani scendono in campo le squadre di Alma Juventus Fano in maglia azzurra il Matelica in maglia bianco-rossa strisce verticali di nuovo buon pomeriggio dal Mancini di Fano palla sul sinistro Sartori ancora da solo Sartori il tiro cross e c'è attenzione la parata molto bene Bussaglia entra in area Bussaglia Fano pericoloso Bussaglia Bussaglia il tiro di Bussaglia Paraspitone ancora Bussaglia poi c'è Sartori in qualche modo riclamano a gran voce un gol sotto la curva ma il colpo di testa il gol invece c'è del Matelica con Ambrosini con l'errore di Ginestra punta la porta Ambrosini il tiro il gol il raddoppio doppietta per il Fano corner per il Fano con Leonardo Nardini dalla bandierina Nodari di testa il colpo di testa a lato non di molto bella l'incronata di Alex Nodari e quindi palla a Mandorino che serve ancora Ambrosini in area di rigore Ambrosini il tiro scalda le mani a Ginestra va via Sartori vediamo Matteo entra in area Matteo mette nel mezzo c'è Carsetti il tocco verso Nardini che serve Bussaglia il tiro di Bussaglia la traversa il gol doveva essere il gol Bussaglia che punta l'avversario Bussaglia c'è Carsetti gol Danny Carsetti emozioni a non finire Fischia esplorito di Aprile il mediocre esplorito di Aprile finisce 2 a 2 Ambrosini con una doppietta era nato in fuga nel secondo tempo Bussaglia un grande Bussaglia fa 2 a 1 con un gran tiro che scuote la traversa nel finale un attettanto grande il Golden Boy Danny Carsetti ebbene questi erano gli highlights ma la partita in integrale come sempre tutti i lunedì la potrete seguire finita questa edizione del telegiornale bene grazie per essere stati in nostra compagnia noi se vorrete saremo qui puntualmente domani sera alle 20.30 per un'altra edizione di Occhio alla Notizia buon proseguimento di serata con i nostri programmi grazie per la visione